ben tornati con l'appuntamento con l'ora del confronto quest'oggi parleremo di sviluppo economico e anche urbanistico perché abbiamo gente qualificata che può farlo assolutamente a pieno diritto partendo proprio dalla mia sinistra con l'architetto Tonino Bruno che ringrazio per aver accettato l'invito all'architetto Tonino Bruno che è stato assessore regionale, assessore all'urbanistica del comune di Brindisi durante il periodo di Mennitti quindi insomma ha seguito da vicino anche quel DPP che adesso sarà eh nuovamente portato in consiglio comunale. Grazie architetto. Eh grazie a voi per l'invito. Era da parecchio per scelta mia personale che non partecipavo a trasmissioni pubbliche però eh mi interessa lo spirito della vostra iniziativa e quindi sono presente con grande piacere. Grazie mille. E alla mia destra c'è Daniele Pommes dei no al carbone eh ringrazio Daniele e che ci mh aiuterà anche ad avere un punto di vista magari ehm come dire eh differente rispetto alla no l'omogenizzazione del eh del del dibattito pubblico più volte Daniele. Mi ha magari rimproverato di sentire eh quelli che più si sentono ovviamente perché ricorrorano eh cariche pubbliche di rilievo però è giusto sentire l'associazionismo e quindi ecco di qua. Grazie a te prima di tutto per l'invito e per la bella iniziativa e sì le le voci fuori dal coro servono sempre per crescere tutti insieme per cui questo è lo spirito. Allora cominciamo dall'architetto ehm dall'ex assessore a questo punto all'urbanistica perché mh voi avevate immaginato un tipo di città. Eh la domanda secca è a distanza di tanti anni quell'idea di città che poi non è stata cristallizzata in un documento purtroppo perché si sono persi praticamente quasi dieci anni di lavoro. Ecco la città sta andando nella direzione che avevate immaginato? e bisogna partire da un dato di fondo che eh le città oggi a livello regionale, nazionale e mondiale stanno avendo una evoluzione, uno sviluppo molto più rapido, più rispetto ai tempi del passato. La città immaginata nel documento programmatico ratificato poi dal consiglio comunale quindi uno strumento di legge secondo la legge regionale aveva individuato in alcuni asset quelle che dovevano essere le strade maestre da seguire. Ovviamente questo era stato fatto in base a un'analisi delle condizioni reali, no? Valutando le potenzialità da una parte e le criticità dell'altra. In base a questo puntando a obiettivi si chiamano strategici perché vuol dire che tu li pensi però devi individuare anche il percorso, le finanze, i soggetti che devono portarla avanti. Erano stati individuati, l'obiettivo diciamo principale era quello di rendere attrattivo e competitivo il territorio. cercando attraverso il recupero dell'investimento privato di dare sostanza a quegli interventi che non possono essere più realizzati solo con la parte pubblica. In quali settori era previsto questo investimento privato che poi a Brindisi è sempre mancato? Non è un mistero che Brindisi è una città che fa fatica ad attrarre investitori privati come l'Italia d'altronde. Perché l'investitore arriva quando ha una non assicurazione ma un minimo di percentuale sulla remuneratività dell'intervento. Dove può convenire a Brindisi investire? Adesso è molto difficile individuarlo perché rispetto a quel quadro stiamo parlando di sette anni dietro sono aumentate le criticità e sono diminuite molte le potenzialità. Sono criticità molto diciamo importanti e preoccupanti. Innanzitutto tu per pensare un'idea di futuro della città devi capire come dicevi tu quali sono i percorsi da seguire e però vale lo stato di fatto. Ecco rispetto a sei anni addietro che cosa è diventato più critico? Noi abbiamo a Brindisi per quanto riguarda per esempio lo sviluppo democratico è una città che si sta invecchiando con pochi giovani. Voi ve lo aspettavate in questa misura? No. Perché è intervenuta la crisi economica che ha acuito. È intervenuta la crisi economica ma soprattutto la città di Brindisi è andato ulteriormente in declino rispetto ad altre città come Lecce, Bari, anche piccole città come Comune che invece si sono inseriti in settori strategici importanti e oggi partire da questo dato di fatto dei giovani, quindi lo sviluppo demografico, due studenti su tre vanno a studiare, non vogliono più andare a studiare e questo non lo sto dicendo io, l'Università del Salento ha fatto un report e una pubblicazione che sta lì, quindi comprende pure Lecce, due studenti su tre vanno a studiare fuori e non tornano più. Mi rendo conto che sto facendo una domanda che semplifica troppo, richiedo una risposta più complessa, ma una cosa sulla quale puntare per mantenere questo capitale umano? uno su tutti è quello della qualità, cioè la comunità spende degli investimenti per formare uno studente, un professionista che inizia dall'asilo unito, dalla scuola allora il problema qual è? Proprio critico, no? Che la comunità benedizina spende diciamo dei soldi per formare uno studente che arriva al liceo, alla maturità e poi lo perde e non lo recupera più perché siccome la città sta invecchiando e ma sta invecchiando male perché rispetto a sei anni fa, oggi prevale il senso di insicurezza, di rassegnazione per dire questa città non c'è futuro, di rancore, di rabbia e mettendo insieme tutto questo è difficile che tu possa parlare o individuare un asset o qualcosa di ci puntiamo su, bisognerebbe puntare su più asset, su più settori però non con ricette singole, no? Oggi a Brindisi noi abbiamo più soggetti, si chiamano i quelli diciamo gli stakeholder del porto e hanno una loro ricetta, poi chiami la Confindustria e ha la sua ricetta, poi chiami gli artigiani, chi è che deve fare la sintesi? La sintesi com'è che si fa? Attraverso quel quadro generale, no? Allora il comune che ha il ruolo più importante ma non è l'unico, tu non te la devi prendere con il comune, con il sindaco, lo sviluppo di una città e concludo questa prima, è uno sviluppo complesso che ha bisogno di più soggetti che si mettono insieme, interagiscono, si confrontano, prima era possibile, si faceva, adesso non si fa più. Secondo la sua esperienza, scusa Daniele, perché è così difficile fare rete a Brindisi che sembra una città molto litigiosa, più della media, almeno si ha questa percezione? È una città litigiosa perché ci sono stati interessi particolari con l'industrializzazione selvaggia che hanno creato questa mentalità. Cioè unissimo amico, al di là delle battute che ha fatto dei nanni e delle ballerine, ci diceva che per lo sviluppo bisogna fare riferimento diciamo al comportamento del cane, il cane se c'è un diciamo una parte in cui c'è il muscolo e l'osso, ma c'è il muscolo è attratto, quando tu arrivi all'osso non c'è più carne, anche il cane ti abbandona perché non ha, e Brindisi. Se la sono mangiata insomma, diciamo così, molto brutalmente. Interessi privati, ho grandi interessi a Brindisi e sappiamo, mi riferisco a Lena che hanno completamente diciamo assorbito il futuro del porto e piccoli interessi che praticamente hanno tolto il futuro alla città. Una chiave di lettura illuminante direi, che lancia la volata alla domanda che volevo farti. Ecco, questo è il momento tanto atteso da tutti, penso dall'industriale, dal Confindustria e da Enel, della decarbonizzazione. Forse anche da Enel perché è diventato antieconomico oramai il carbone. E poi passerò all'architetto per capire se voi vi aspettavate anche questo tipo di decarbonizzazione così in fretta. Allora Daniele, però c'è da dire che se da una parte c'è questa strategia di uscire dal carbone entro il 2025, sembra che il passaggio obbligato sia quello del gas, perché sia A2A che hanno presentato dei progetti in tal senso. So che voi siete contrari anche a questo tipo di combustibile perché sempre fa parte del fossile, però diceva il sindaco Rossi in una intervista, in realtà se, intanto non sappiamo come gestirà la rete Eterna e tutto il resto, quindi ci saranno da fare il lacci con Snam, quindi è ancora tutto molto in divenire, ma se questo dovesse essere la strada maestra per uscire dal carbone, ovvero quella di andare a parlare sul gas, è bene seguirla pur di liberarci del carbone, altrimenti chi si oppone fa parte automaticamente del partito del carbone, cioè cambiare tutto affinché non cambi niente. Che mi dici di questa serie di riflessioni? Beh addirittura passare al partito del carbone mi sembra un po' eccessivo nei miei confronti. Io penso sinceramente che è un problema di modello quello a cui ci troviamo davanti, che bisogna avere il coraggio di cambiare appunto modello. Ora il passaggio che si fa, che si sta emulsion al carbone, che in effetti diciamo ci fu un passaggio diciamo qualitativamente migliore rispetto all'aria insalubre che si respirava altrove, abbiamo saputo dopo, in realtà non c'era bisogno che passassero vent'anni, già si sapeva all'epoca, che appunto il carbone fa trattanto male. Riprendere la stessa strada oggi con il gas è una strada che non porta secondo me troppo lontano. Quindi secondo te i benefici sono rapportati a quelli dall'emulsion al carbone fondamentalmente, cioè non ci sarebbe lo stesso abbattimento. I benefici per chi? A livello di salute. A livello di salute sì, ci sarebbero qualche miglioramento, però non eccessivo perché comunque restano altri determinati inquinanti, oltre diciamo che a un tipo di produzione. Ma secondo me diciamo è diverso, bisognerebbe andare più a capire, a sforzarsi di cercare un nuovo modello di produzione. Una riflessione che vale la pena fare. Nel 2003 se non sbaglio era l'epoca del rigassificatore per cui diciamo in Italia c'era un enorme bisogno di gas, addirittura se ne erano progettati 19. Di quei 19 ne sono stati fatti tre, di cui uno solo oggi in funzione. Quindi tutta questa grande necessità di gas sembra che non fosse vera. E oggi diciamo si sta ripetendo la stessa necessità. Se da circa un lustro, quindi cinque anni, l'Enel sta chiudendo la maggior parte delle centrali a gas di dimensioni ben più piccoli rispetto a quelle che si vorrebbero fare qui. Perché non ha una funzione nel mercato. E l'Enipower a Brindisi invece ha quella necessaria ma perché brucia gli scarti della propria produzione. Per cui diciamo rientra nei costi di... Tra l'altro si parla di rifasamento, cioè quando ci dovesse essere un calo di energia nelle ore notturne interviene insomma A2A. Questi sono due casi differenti. No, però il problema del trasformare Cerano a gas è proprio in questa ultima funzione che tu hai detto. Quindi non è neanche una produzione che possa essere effettivamente poi utilizzata durante tutto il periodo ma soltanto in alcuni casi di domanda. Perché è molto più semplice accendere una macchina a gas rispetto a quelle a carbone. Ora però io mi chiedo ma secondo quale diciamo conteggi si sono fatti questi tipo di analisi? Non fosse altro perché i gruppi che stanno chiedendo, sono circa otto se mi sbaglio, i gruppi che vogliono progettare a Brindisi, non si trovano in nessun'altra realtà italiana. Quindi ancora una volta così come per la centrale a carbone a Ravenna si fece una con due gruppi, la maggior parte era uno o due, a Brindisi ne fecero quattro. Stessa cosa qui oggi con il gas anziché fare una centrale che possa svolgere la sua funzione, ammesso e non concesso che ce ne sia, si sta pensando una grandissima centrale perché il gas che dovrebbe arrivare è tanto e quindi in qualche modo vuole essere utilizzato. Ora per riprendere diciamo le parole di chi mi ha preceduto, puntare diciamo non avere quella lungimiranza nel programmare i consumi, le attività economiche risulta diciamo un boomerang che ci arriva fra i denti, non soltanto indietro perché comunque non pensare a come cambiano i tipi di consumi e quindi anche i tipi di produzione è un dramma. Non fosse altro diciamo che oggi ancora pensiamo a questa produzione, è il modello a cui facevo riferimento prima, a centratore che perde dissima energia rispetto durante la distribuzione anziché puntare diciamo a un tipo di produzione democratica, fatemela passare come termine, per cui puntuale può produrre energia sui tetti piuttosto che ci sono tante altre funzioni. Gli stessi soldi che il governo sta dando alle centrali all'Enel per essere, Enel e di altre impianti, per essere trasformate a gas, se poco poco gli stessi miliardini si fossero spesi nel studio dell'accumulo dell'energia, beh io penso che staremmo guardando al futuro con molta più fiducia e quello che ci manca è proprio guardare al futuro con fiducia. Verro pure che starace l'amministratore di Enel viene da Enel Green Power, quindi ha quel tipo di estrazione, quindi penso che se fosse possibile con gli stessi soldi adottare quel tipo di politica loro sarebbero i primi probabilmente. Effettivamente si è sempre detto che il gas sarebbe stato antieconomico per quella centrale e ha sorpreso un po' tutti poi questo invece questo coop de teatre forse. Ma il problema non è la produzione, il problema sono gli incentivi che ci sono legati dietro, allora pur per garantire la produzione o meglio la redditività ai grandi impianti e non farli chiudere decurti, li stanno diciamo trasformando in impianti a gas che non devono essere accesi, quindi capisci bene che è semplicemente un incentivo a realizzare degli impianti e quindi un regalo anziché diciamo concludere anticipatamente il contratto di fornimento di energia. Allora, e quindi su questo tema intanto vi aspettavate una decarbonizzazione così accelerata e poi su Enel, su A2 sappiamo il DPP cosa prevedeva, cioè smantellamento di quella centrale e asservimento alle attività retroportuali. Su decarbonizzazione Enel? Cominciamo col dire che la decarbonizzazione non è che è un aiuto un'illuminazione sulla strada di Damasco da parte dell'Enel. Ieri all'ONU ci sono stati 60 persone in rappresentanza di altrettanto paesi dove per sollecitazione stimolo di una ragazzina di 14 anni che ha messo diciamo in guardia con un linguaggio pure molto costruito, mi avete tolti il futuro, però la realtà è quella. Cioè oggi per quello che sta accadendo in generale nella evoluzione in negativo delle condizioni climatiche ci vuole una drastica riduzione di CO2. C'è poco da fare. allora il problema qual è tutto questo come diceva chi mi ha preceduto? Che queste cose lei le fa come ha fatto con la metanizzazione, come ha fatto con il fotovoltaico, tutto questo diciamo giro di parole, ma io dico di interessi e perché poi lo Stato deve intervenire e sovvenzionare, finanziare questa riconversione della produzione diciamo energetica nel nostro paese. Ora questo andrebbe fatto con un piano energetico nazionale, strategico, dove si dice tanto di carbone che deve andare via, tanto di fotovoltaico, invece si va avanti. Noi abbiamo letto sul giornale tempo addietro che a Brindisi sono tornati alla carica gli interessi per il fotovoltaico e si capisce perché siccome Brindisi c'è già diciamo una linea principale che collega con il centro Italia e tutti vengono a Brindisi perché si possono con le centrali di riconversione collegarsi a questa linea. Allora io mi chiedo è sufficiente dire a queste persone si potrebbe pure però salvaguardiamo i vigneti e non sto facendo una critica è un ragionamento per carità e gli oliveti no? E dove c'è seminativo? E noi abbiamo dei seminativi che sono dei terreni con grande potenzialità di sviluppo agricolo soprattutto per la vigna e c'è una riscoperta in tal senso no? Ci sono giovani che si stanno interessando. Se io vado a insediare i pannelli fotovoltaici in quelle aree e sto togliendo aree allo sviluppo agricolo che è uno di quei settori che nel documento programmatico era stato individuato come strategico insieme al turismo però veniva spiegato quale turismo no? Quale turismo? Ma non è il turismo del bed and breakfast no? Brindisi la stiamo trasformando come tante altre città per cui mentre prima le famiglie quando era possibile investivano nella casa no? Prendiamo il mutuo tanto poi la diamo in affitto. Questa operazione a Brindisi non si può fare più. Allora tutti puntano ai bed and breakfast facendo i muti e facendo. Questo è un tipo di sviluppo che non va da nessuna parte perché segue delle mode che poi stravolgono le potenzialità della città no? Perché se tu fai tanti bed e stai trasformando il centro insieme a tante altre trasformazioni in una realtà non so manco chiamarla perché non è turistica. E di cosa avrebbe bisogno invece Brindisi per sviluppare il suo potenziale turistico? Guarda io faccio un esempio no? In Puglia noi abbiamo materia è stata costruita ma abbiamo una realtà dove turismo e cultura no? Sono diciamo diventati di asset di sviluppo di una realtà la Valle d'Itria cioè nella Valle d'Itria la cultura non è quella apriamo i musei apriamo facciamo le sacre paesane cioè la cultura è stata inserita all'interno di un piano più complessivo che riguarda diciamo come base la narrazione del territorio. Io vado nella Valle d'Itria perché mangio le polpette, le fave, le orecchiette poi qualcuno mi spiega perché là si mangiano queste cose. L'esperienza insomma è quella che ormai vanno cercando. La diversità, tu devi essere capace, la competizione di cui parlavo prima si farà su chi è capace di dare un'offerta con delle diversità e specificità che io trovo lì. Io le fave con le cicorie dico ai miei amici me la posso pure andare a mangiare a Milano dove stanno a prendere un sacco di ristoranti salentini no? come però se io le fave scicore me le mangio in un agriturismo dove sta il muro a secco dove sta il l'albero di olivo dove c'è la vigna ha tutto un sapore. Questo manca Binsi le masserie insomma no ma mancano c'è nel senso manca il recupero delle masserie manca cioè forse anche tramite ne parlò Enrico il notaio tempo fa sul su come disciplinare anche l'utilizzo delle campagne. Sì ma il problema non è un aspetto normativo no? Fasano ha ormai tutte le sue masserie trasformate in modo diciamo adeguato a finalità turistico-culturali. Cosa manca a Binsi? Come mai non si sono sviluppate? Ma manca il contesto perché io vado a investire a Fasano perché oramai è una realtà turistica dove il comune ma non il comune la classe dirigente cioè gli imprenditori Melpignano che hanno fatto Borgognazia e i fratelli Muolo che hanno fatto Torremozza e via di Cine hanno puntato al turismo di lusso. Cinque stelle va bene? Ora se le varie realtà non fanno una scelta di campo per dire in base alle nostre io posso pensare che Binsi può puntare a un turismo di lusso? No non lo può più fare. Ostuni sta a metà però sta facendo passare il tempo. Allora tu quando parli di turismo come è stato fatto nella valle di Itria e come andrebbe a essere fatto nel Salento? Cioè oggi quando si parla di sviluppo della città bisogna capire una volta per tutte che lo sviluppo della singola città non esiste. Tu c'è un porto, esiste il Salento? Allora il problema è ecco e ti rispondo se rimaniamo isolati individualisti il comune non va da nessuna parte. Io non sento più parlare di Salento. Io personalmente quando sono andato nel 94 a Bruxelles per il finanziamento del sistema aeroportuale io avevo individuato, io, la regione, io ero il portavoce come assessore competente, due porti, due realtà portuali. Allora Bari e Brindisi, ma non era Brindisi, era già si parlava perché sino al 95 si è parlato sempre di Salento, l'area ionico-salentina ve la ricordate? Oh, quando sono andato la dottoressa ha detto, eh ma noi mica possiamo fare un aeroporto in ogni città. A Bari va bene, ma Brindisi, e gli dico no dottore, noi stiamo parlando del Salento, dell'area ionico, il Salento, che cos'è il Salento? Non lo conosco. E gli ho spiegato che cos'era il Salento. Ah, dice allora sì, abbiamo 1500, cioè c'è la massa critica che ti permette di fare certi investimenti. Brindisi deve uscire da questa ottica isolazionista che non la porta da nessuna parte. E qui Daniele hai pieno diritto di cittadinanza, si sfotta ovviamente, perché sul turismo ovviamente sei un addetto ai lavori e quello che diceva l'architetto è tanto giusto che il CIS, il contratto istituzionale di sviluppo, si basa proprio sull'asse Brindisi-Leccia. Ecco, forse questa è... Città e città. Sono due città. Non è un'area territoriale, non è il Salento. Però già interessante il fatto che si guardi per uno sviluppo... Sì, ma dovrebbe essere l'area... Diciamo, tutto il Salento a essere responsabilizzato, no? Come succede in tante altre realtà. Se tu vai in Toscana, sono delle aree che hanno individuato una loro diversità. E noi invece andiamo avanti per singole città. E il Parco delle Dune Costiere, insomma, tu ci lavori, quindi quello è stato un modello interessante, così come è un modello interessante e può essere sempre di più torreguocete. Insomma, questo turismo esperenziale, slow, si chiama in tante maniere, è quello sul quale deve puntare Brindisi. E cosa manca ancora? Beh, assolutamente il turismo lento è quello su cui può puntare, come diciamo da duemila anni viene comunque utilizzata questa terra, ovvero di passaggio per andare verso Gerusalemme o verso Roma. E ancora oggi, ultima, stamattina, ho incontrato cinque pellegrini addirittura dalla Norvegia che scendevano, che arrivavano a Brindisi. Si aspettavano qualcosa di più vistoso, non lo sanno che noi siamo parsimoniosi nelle nostre... L'ultima pietra miliare, diciamo, della via Appia, si aspettavano, diciamo, qualcosina un po' di più, invece c'era una pietra a terra che gli ricordava comunque che stavano sulle via Appia e gli mancavano pochi chilometri, un chilometro circa, all'arrivo al porto. Ora, l'accoglienza di questi pellegrini, diciamo, potrebbe essere un punto verso cui ripartire. Io non lo so, diciamo, se i B&B hanno tutta questa, diciamo, responsabilità nell'ambito turistico in chiave negativa. No, la tendezza. Ecco, per questo è comunque un modo per ristrutturare i centri storici e capire da qui a cento anni magari come possono essere ristrutturati. Assolutamente, la Civitas, specialmente nel centro storico, viene stradicata. Però, diciamo, non più grave, non più grave, mi sembra, di un altro tipo di turismo che a me non entusiasma, che è quello, per esempio, croceristico e quindi addirittura dei grandi impianti, addirittura l'idea di creare delle banchine all'interno. Arriviamo. Per, ti sto anticipando, per poter fare delle banchine e accogliere questi turisti. È un po' come se io che mi occupo di cicloturismo, portando dei numeri, delle argomentazioni, autori, diciamo, persone autorevoli, dicessi che tutte le superstrade dovremmo convertirle in piste ciclabili. Io, diciamo, posso avere tutta la forza della mia affermazione. Certo, come ti vedi, direbbe qualcuno, a trasformare, non pensare a tutto il resto delle necessità delle persone che utilizzano la superstrada. Beh, più o meno spesso lo pensa con il porto. Il porto e Brindisi, da come lo percepisco io e me la fanno percepire alcuni ospiti che appunto sono passati da qua, tutti la vivono in modo molto positivo. Gli piace il fatto che sia una città tranquilla, il porto, diciamo, evidentemente ci si innamora, per cui continuare a metterci cemento non mi sembra un grande investimento per il futuro. Così come, diciamo, la possibilità di spingere delle attività di fruizione turistica poco invasive rispetto al territorio, penso che sia il modello a cui puntare. Mi fa piacere che oggi, diciamo, sia il Gallo Alto Salento, di cui Brindisi fa parte, che l'amministrazione e altre cose, stia spingendo molto verso questo tipo di turismo. Non fosse altro perché stiamo parlando appunto di un turismo che porta dell'economia. Non credo io quando si parla che i pellegrini è un turismo povero. Assolutamente no. Anzi, è un turismo che gli permette poi di acquistare, conosco delle persone, diciamo, che hanno accolto nelle loro strutture masserie vere e proprie, non masserie di strutture ricettive a senza stelle, ma masserie di produzione, che hanno accolto dei pellegrini e hanno fatto degli ordini importanti di olio e di altri sott'olio e cose del genere. Quindi ha un riverbero. E l'importanza di salvaguardare il paesaggio, così come in Valle d'Itria, i trulli, i vigneti, le chiesette, le masserie, sono tutte contestualizzate e quindi uno ha il piacere di perdersi e st'innamoro della Valle d'Itria. Qui a Brindisi questo innamoramento, diciamo, ha delle forti distrazioni. E allora il fotovoltaico, mentre uno sta guardando un olivo per una mela, dice ma quello che frutto è il fotovoltaico? Oppure resta accecato dal riverbero che gli può venire incontro. Io vi racconto un gruppo per esempio con cui facemmo una passeggiata all'inizio delle mie attività, dalla Valle d'Itria e ci sposavamo in tre giorni diversi fino a Lecce, e allora diciamo appena appena ogni volta l'albero di figli, l'albero di mandorle, mi facevano degli assalti veri e propri. Arrivati in zona Cerano, attraversiamo lì la strada che è bellissima anche comunque in tutte le case coloniali, in zona Valesio, un contadino ci ferma e ci offre del mellone. Si guardano, prendono il mellone, non lo aprono lì, camminiamo, continuando a vedere la centrale e mi chiede un signore, ma ce lo dobbiamo mangiare sto cosa? E come fai a dire ecco l'importanza del paesaggio, la sala guardia del paesaggio, perché se noi non riusciamo a dare quell'atmosfera di autenticità, di veridicità, di rapporto col territorio, il paesaggio è un modo per gustare il territorio e ogni prodotto che esce dal territorio è un modo per ritornare a visitare il paesaggio, ma se non capiamo che questo scambio non può essere a favore dei fondamentalisti industriali, fatemeli chiamare così, i signori di Confindustria, i signori del porto, i signori che penso che soltanto mettendo cemento e grandi aziende possono risolvere le realtà del locale, beh è assolutamente il contrario. Diciamo che la verità sta sempre in mezzo, i fondamentalismi non vanno bene mai, quindi però siete talmente bravi che mi avete anticipato un tema, ovvero quello del, oltre a quello del porto del quale parleremo, quello del centro storico, si va verso una desertificazione, il lungomare funziona d'estate, non funziona da autunno in autunno, in inverno e funziona poco in primavera, quindi è un porto bello sicuramente, ma poco economicamente attrattivo ancora, cioè poco redditizio perché insomma se Brindisi è turistica attraverso il pellegrinaggio, attraverso un turismo che arriva di straforo dal Salento, non è definibile ancora una città turistica, su questo penso che converremo. Ecco, sul centro storico, adesso ci saranno anche dei fondi, se dovessero davvero arrivare questi fondi CIS che serviranno anche per il centro storico, oltre che per la costa. La desertificazione è un problema globale dei centri storici, ma Brindisi lo soffre particolarmente, perché? Brindisi lo soffre perché nel centro storico si sono verificati dei processi negativi, che ha visto per esempio il commercio in grande difficoltà per la nascita dei grandi supermercati. Però anche le altre città ce l'hanno, ad esempio, senza andare sempre. Adesso ci arrivo, no? E se uno va a Lecce, diciamo il solido modello, Lecce, no? E però Lecce come centro storico, almeno finora, perché anche lì c'è il problema del B e B, di attività che soppiantano o abitazioni e luoghi dove per l'aumento di valore dell'immobile, il pensionato, i pensionati non riescono più e quindi vengono sfrattati. Allora, un centro storico che non tutela questi aspetti, cioè nel senso di mantenere un minimo di specificità sociale. Io faccio riferimento sempre, anche a grandi città, no? Se tu va a Milano, vai a Roma, ma più Milano, più Ferrara, questi, il centro storico è rimasto con una configurazione che richiama molto quella passata, dove, per esempio, gli artigiani non sono stati cacciati via per quel fenomeno che tu hai definito di desertificazione. Io dico di stravolgimento sociale ed economico. Quindi si ha mai avuto artigiani. Cioè c'è la cultura, perché si è provato tante volte a riempire scuole di PI e è sembrato sempre che non ci fosse l'humus giusto. Anche su questo... Noi abbiamo avuto lo sviluppo di un territorio, di una città, è qualcosa di conseguenziale, che riprende quello che c'è prima, lo migliore e lo sviluppo. Noi purtroppo con il grande insediamento industriale abbiamo subito una violenza tale che ha, culturale, sociale, che ha trasformato il tessuto socio-economico della città. Cioè falegnami che lavoravano, mio zio era un falegname, aveva dieci operai che ha perso in una settimana perché tutte e dieci hanno trovato il posto fisso. E così... Con l'agricoltura. Bravo. Nell'agricoltura è successo e quindi c'è stato questo abbandono. Ora, a suo tempo, io ho frequentato l'Università di Roma negli anni, all'inizio degli anni Sessanta. Lo sviluppo industriale per poli era qualcosa che sul piano urbanistico veniva studiato e lo si dava per certo perché il grande, lo sviluppo del grande polo avrebbe per clonazione, per... In realtà questo era tutto teorico. Poi è successo quello che è successo, il costo della materia prima, l'incidente che è accaduto a Brindisi e quindi noi abbiamo avuto il decadimento di questo... Diecimila persone erano impegnate, non solo di Brindisi ma di tutto il Salento. Questa crisi è stata sostituita dal contrabbando. Decadimento economico e urbanistico perché lo... No, perché urbanisticamente... Perché sono sorti in quattro cinque quartieri come... Capice, quartieri dormitorio, fatti male, no? Dove venivano fatti giusto perché c'era una... Ma è accaduto pure in altre realtà, no? Allora, quello che io voglio dire è che questo stravolgimento è stato sostituito per trent'anni di contrabbando, che non era un'economia che era di... Allora, in tutto questo, mi vuoi dire l'artigiano, quello che lavorava per quale motivo, no? Doveva riprendere quando c'era questa grande occasione di guadagno... Diciamo... E come fare adesso? È un processo lento che... Questo lo sto dicendo per capire, quando io dicevo quell'analisi che bisogna fare di partenza, perché io quando sento parlare di urbanistica, nessuno fa l'analisi del quadro sociale, dico no. Da che cosa stiamo partendo? Quali sono le criticità? Allora, se io ho questo quadro, un grande invecchiamento, la... Gli studenti che vanno via e non tornano, la città con un centro storico che non... Non c'è un'idea di futuro. Ecco, io investitore, vengo a Brindisi, no? A Fasano c'è stato un imprenditore ultima arrivata, si chiama De Piccierno, è uno svizzero, turco, non si capisce. De Picciotto che è... De Picciotto. Oh, questo è arrivato, si è comparato cinque masserie, ha preso la cosa... Però non gliel'hanno fatto fare. Sì, una su cinque, ma adesso gliela faranno fare, perché si tratta, no? Quello non è Briatore, è una persona intelligente. Ha investito lei, perché non è venuto a... Anche a Lecce. No, e tra l'altro c'è un aggravante... Ma molto di più, io voglio mettere in evidenza, che nella provincia di Brindisi c'è un territorio provinciale, Fasano, Carovigno adesso, San Michele Salentino, no? Che si è inventato, a proposito di quello che diceva il turismo, la cosa del figo mandarlato. Noi facciamo sagre, dove diamo polpette, vino e pizzelle. Allora, il turismo culturale è qualcosa che deve nascere da una base di... Puntando, questo deve... Sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale, tanto per tornare al discorso. E il cerchio si chiude, ma non per tornare, diciamo, a essere tutti latusciani, no? Ecco, io non sono d'accordo quando si parla male dell'industria. E Brindisi c'è un'industria che è eradicata, cioè nel senso che viene fuori da quella... Ecco, parlavamo di sviluppo continuo, no? E noi abbiamo la sacca, no? La sacca era una realtà molto importante nel campo, per esempio, delle riparazioni, ma anche nell'aeronautica, no? Il primo, diciamo, idrovolante dell'Isotta Martini è stato assemblato a Brindisi. Quelle maestranze hanno dato origine, e concludo questa fase, all'industria aeronautica. La industria chimica a Brindisi non è che esorge per caso. Noi avevamo il famoso, il capannone Montedisi, si parla il porto. E purtroppo noi abbiamo avuto un'autorità portuale che da quando è stata istituita nel 94, a differenza di tutte le autorità portuali, ha distrutto il porto di Brindisi. Approfitto della questione sacca, scusami, Daniele, perché lei ha progettato insomma quel parco, il Cillaresa, adesso si parla di recupero dei capannoni ex sacca tramite il bando, appunto, tramite il bando periferie, anche se adesso non sappiamo che fine abbia fatto quel progetto di recupero di quei capannoni. Tu hai qualche notizia in merito, ok? Quel parco non doveva, in questo momento storico, essere a questo punto, cioè un po' così abbandonato. Era stato pensato per altre finalità, diciamo, per altre ambizioni. Il progetto generale prevedeva non il parco, il Verdi in sé, ma un parco tematico, era il parco della salute. Per quello che dicevamo prima, no? Sviluppo culturale e altro. E diciamo che la specificità culturale agronomica della realtà di Brindisi è che Brindisi ha, diciamo, è il territorio più idoneo per valorizzare la dieta mediterranea. Il parco della salute che cosa prevede? Prevede mettere insieme un ciclo nuovo, no? Per fare in modo che, per esempio, adesso si parla delle merendine, cioè consentire una vera e proprio un sito formativo, educativo per la corretta alimentazione, ma a cominciare dai bambini. Una notizia possiamo già darla, quel progetto è stato accantonato, cioè proprio quello sulla dieta mediterranea, insomma, da ultime notizie è stato escluso, diciamo, per privilegiare la casa della musica e poi si vedrà. Vabbè, non mi fare polimico, ogni amministrazione fa le scelte che deve fare. In generale, quel parco è un parco incompleto, quello non è un parco solo per il verde. Propulsore doveva essere appunto il riempimento di quei capannoni. La vita mediterranea non è solo la dieta che fa fare i sacrifici, è una pratica alimentare, ma uno stile di vita, dove, diciamo, tu metti insieme il movimento, sappiamo il verde che cosa significa anche in termini di riduzione di CO2, no? Ma quel parco lì era nato per mettere insieme il verde ad altri aspetti della vita quotidiana. Gli orti urbani, immagino. C'è l'orto urbano e l'orto didattico per i bambini. Allora, il bambino che pianta un seme e vede uscire la pianta, fa educazione, diciamo, prima ambientale e poi alimentare. Ma questo vale pure per gli anziani, no? Oggi, gli anziani, dove possono andare a Brinni? Si rimangono chiusi in casa, atterriti. Se hanno una realtà dove l'incontro è favorito con gli orti urbani e ci sono anche degli spazi chiusi dove io posso andare, confrontarmi, si recupera l'inclusività e si rompe l'isolamento. Tutto questo non è che accala dall'alto, ci vuole una capacità progettuale e quella che praticamente bisognerebbe attivare per fare in modo che tu quando dici, turismo, cultura, industria sostenibile e... Aggiungerei Porto, a questo punto chiudiamo con il Porto... ...perduto ormai, no? Parliamo, cerchiamo di essere seri. Di questo andazzo non parliamo di Porto e non parliamo perché tutti sanno che le crociere non portano nulla come futuro di sviluppo culturale e turistico, no? È una grande diciamo bolla che è attuale e che però io poi un turista, io non voglio parlare male, però questa è un'analisi che hanno fatto gli altri per me. Quando scende un turista che sta a fargli la crociera, ferma, va al bar e si prende un caffè per due per bere due bicchieri d'acqua. Diciamole queste cose. Ci sono città, per esempio Bari, perché non punta più sul turismo crociaristico? Perché satura la banchina alle banchine. No, ma le banchine le valorizzano diversamente, no? Noi abbiamo, a proposito di futuro, questo era scritto anche nel documento programmatico. Noi parliamo di porti, no? Allora, Trieste, via della Sede. Trieste non c'è aree retroportuali, Bari non c'è un metro quadro e lo stesso vale per quelli sul Tireno, ma noi parliamo di quelli dell'Adriatico, no? Tanto oramai per le condizioni. L'unica realtà nel Mediterraneo che ha una grande area retroportuale che potrebbe essere attrezzata come area logistica per consentire che i grandi insediamenti di distribuzione tipo Amazon si fermano tutti nel centro d'Italia, non vengono giù e sarebbe importante che molta merce arriva anche ancora via nave e potrebbe, dove diciamo c'è la possibilità. E le ZES dovrebbero facilitare proprio questo processo di... Bisogna arrivare, questo è fondamentale, a un sistema di integrazione dei trasporti. Se non si fa questo, quell'obiettivo viene meno. E allora Daniele, l'intermodalità, le merci e la logistica, sicuramente, e questo lo sostiene anche, insomma, chi opera nel campo dell'economia del mare, l'autorità di sistema portuale, apportano benefici maggiori rispetto a quelli dei passeggeri, quindi questo è un dato, anche se mi ricordo un incontro in l'autorità portuale tra comune e appunto l'ente portuale, dove alcuni esponenti a maggioranza dicevano che i passeggeri portano un'economia maggiore rispetto alle merci, e questo in realtà non è così. Però al netto di questo, come la vogliamo mettere, la possiamo girare come vogliamo, ma sia per lo sviluppo della logistica che sviluppo dei passeggeri, servono sicuramente infrastrutture. Ora, Santa Polinare, sappiamo su quello come la pensi, io vorrei provocarti su quello, nel senso, più volte il presidente dell'autorità portuale, Ugo Patroni Griffi, ha sostenuto, ditemi cosa volete fare e io mi adeguo. Il progetto di Santa Polinare va avanti, anche se probabilmente quello degli up costi, non sappiamo se andrà a buon fine, probabilmente no, non sappiamo, comunque in questo momento, la provocazione è questa, perché il comune, se tramite l'assessore Borri ha dichiarato che non servono nuove banchine, anche se poi si è firmato un documento in consiglio comunale che dice l'opposto, perché il comune non punta sulla riappropriazione di quegli spazi? Cioè, è successo con deposito catene, dove finalmente la città si sta riappropriando di quel tratto di waterfront, perché non fare lo stesso con Santa Polinare? Perché non c'è una decisione coraggiosa, anche da parte della maggioranza, in tal senso? Cioè, perché magari l'autorità portuale può accogliere tale input? Allora, su Santa Polinare sarebbe andare a fare al comune questa domanda e io, diciamo, non faccio parte della cosa. Faccio parte, diciamo, dei portatori di interesse e quindi noi abbiamo provato a dare un suggerimento per utilizzare quell'area in qualcosa di diverso, per poter ricostruire, restituire una memoria collettiva alla comunità, dove evidentemente io non immagino che lì si torni a ballare sulla rotonda, però diciamo, penso invece che possa essere un modo per ritornare con un rapporto del mare senza doversi fare 15 chilometri di macchina per poter arrivare nelle zone balneari che abbiamo nella costa nord. Ora, l'interesse, diciamo, a costruire lì delle banchine, dei pennelli, non è tanto probabilmente per costruire i pannelli, ma per aumentare il fondale del porto, che io reputo una vera necessità. Quindi non è un problema che abbiamo di banchine, abbiamo un problema di fondali. Quando, diciamo, a un incontro di poche settimane, la settimana scorsa all'autorità portuale si parlava del problema, non possiamo dire che non sia le banchine. Beh, io non lo penso, perché oggi proprio andavo sul sito dell'autorità portuale e ho visto che ci sono circa... Il comune, cioè l'assessore Bori che intendeva che non servivano nuovi... No, no, era il presidente padrone gritti che appunto diceva che c'era questa grandissima necessità di banchine nuove, sì. In realtà io ho visto che ce ne sono almeno una quindicina disponibili nel porto di Brinzi e non mi sembra di vedere ogni giorno 15 navi ormeggiate. Sentendo però il comandante della capitaneria di Porto Cano afferma che banchine utilizzabili in sicurezza non ce ne sono e da qui l'esigenza del pontile a briccole. Diciamo, dobbiamo fidarci di un tecnico e se un tecnico afferma che non vi sono spazio e sufficienza e che è necessario un pontile a briccole è meglio ancora nuove banchine a Santa Polinare o ovunque possano sorgere. Si è parlato anche delle banchine dell'ONU, poi vabbè lì c'è una trattativa da intessere particolarmente complicata. Però le banchine di Santa Polinare non servono solo per la croceristica d'onore del vero ma anche per le navi rorò che trasportano trailer e merci varie che che se ne dica portano economia. Ecco come quindi come contemplare queste esigenze? E allora ritorno un secondino su una cosa e allora chiamiamole ognuno col nome che ci hanno. Se allora abbiamo bisogno delle banchine per fare del rorò non abbiamo bisogno delle banchine per fare e quindi non lo argomenti per la croceristica perché altrimenti si scambia una cosa per l'altro. Uno e due. E ma tu dille tutti e due anziché dire soltanto il croceristico. Così come ci sarebbe da pensare alle banchine dell'Enel. Se è vero come l'Enel è vero che nel 2025 l'Enel non ci sarà più perdiamo altri 10-15 anni se tutto va bene per costruire dei nuovi pennelli quando quelle banchine si vanno a liberare da qui a poche... A questa Morena Nord che è una banchina sarà utilizzata per la croceristica. Una banchina con la possibilità di attraccare due navi. Quindi diciamo bisogna un attimino razionalizzare le cose. La cosa che più mi sembra inverosimile e assurda del tutto i progetti di Santa Polinare è che hanno pensato diciamo e nelle intenzioni io lo capisco mi sembra più che giusta come cosa creare un sistema interno al porto di movimentazione dei camion quindi e delle persone. Giustissimo. Se non fosse il problema che il porto per la sua conformazione naturale fatene una colpa a Gesù Cristo ha dei fiumi delle affluenti che arrivano all'interno del porto. Per cui tanto fiume piccolo quanto canale patri sono delle cose sono dei dei canali che non possono essere bloccati o struiti né ponti né niente. Tanto è vero che le opere che hanno fatto l'autorità portuale oltre a quelle di banchinamento un ponte su queste due aree appunto fiume piccolo e canale patri. Oggetto di indagini ma principalmente l'autorità di bacina ha detto bisogna rimuoverle immediatamente perché sono pericolose. Quindi abbiamo fatto tutto e abbiamo speso dei soldi pubblici per poter fare una cosa diciamo che si è bella nelle intenzioni ma nella fattibilità non ha senso e io mi chiedo in questa fattibilità è possibile che chi i tecnici per cui è vero che i presidenti cambiano ma i tecnici sono spesso gli stessi è possibile che non si siano resi conto del grande abbaglio che stiano prendendo e quindi secondo me bisogna un attimino ripensare al porto in un'altra chiave. È una situazione obiettivamente difficile ecco e questo momento particolarmente importante perché sono in ballo la redazione del Pug e del piano regolatore del porto che potrebbe essere una fortuna enorme ma anche una sfortuna perché i duenti comuni e autorità portuale non parlano assolutamente la stessa lingua. Quindi posto che ci sono dei problemi di rischio idrogeologico disseminati in tutta la città perché dal Cillarese al Brindisi come ha detto l'assessore Borri è piena d'acqua e questo a quanto pare costituisce un problema nella fase di progettazione anche se è una risorsa. Come prevedere quindi lo sviluppo del porto? In quale direzione? Cioè dove possono nascere nuove banchine per appunto utilizzare quelle aree retroportuali che ci sono? Ma per quanto riguarda l'aspetto urbanistico io devo dire che Brindisi può contare su un professionista accademico come il professore Borri che è una persona di valore e culturalmente attrezzato. Il problema è quanto Borri conta o può contare all'interno di un'amministrazione cioè se può portare avanti obiettivi che riguardano l'urbanistica in rapporto a quello che è l'idea di futuro della città. Allora bisogna partire ed elimina una mistificazione. Io quando sento che un presidente del sistema portuale si rivolge ai stakeholder cittadini, adesso ho due anni che lo fa, ditemi quello che devo fare. È una mistificazione cioè nel senso che la procedura, io che faccio parte della prima repubblica, ho fatto l'assessore regione, io partivo da una realtà. La partecipazione va bene ma io devo dare gli elementi per le scelte di questa partecipazione ai soggetti singoli. Però l'autorità portuale ha un'idea che non è quella del comune. A quel punto allora il discorso è, l'idea è vasca di colmata, piaccia o non piaccia lì a Costa Morena. Andiamo a Monte. Il futuro di un porto non è che si decide così artigianalmente. Vanno studiati gli approfondi gli scenari. Brindisi si trova in una realtà diciamo territoriale particolare, ha a che fare con lo sviluppo del canale di Suez, con il Mediterraneo, con quello che sta accadendo nella logistica. Io posso chiedere a un cittadino qual è la tua idea oppure a quello che opera nel settore per esempio delle agenzie di viaggio o altro. Io devo chiamare come quando io sono malato, chiamo il dottore, non mi rivolgo a qualcuno. C'è un malato in questo momento è il porto ed è la città. Per la città abbiamo un medico che ci può dare. Io non vedo questo nel sistema portuale perché questo io una volta che ho studiato lo scenario, allora comincio a dire, vabbè turistico, crozieristico, in base alla configurazione del porto, in base a quello che mi può offrire lo scenario nazionale internazionale, do delle opzioni e su queste opzioni chiamo gli ascedenti, ma non che io dico ai cittadini, datemi le idee. Questa è una mistificazione. Divento più preciso così possiamo chiudere in maniera magari più precisa perché magari sono stato poco preciso nel riportare l'affermazione in questione. L'idea è questa dell'autorità portuale. banchine a Santa Polinare, due per le navi Rorò, una per le grandi navi da crociera che non possono entrare in porto interno, dragaggi a Santa Polinare, Costa Morena e nell'ingresso del porto esterno, una stazione di rifornimento per grandi navi e autotrazione a Costa Morena che non si farà più a quanto pare perché il sindaco ha affermato che confligge con la linea ferroviaria per alimentare quindi le grandi navi di nuova generazione. Quindi l'idea è il dragaggio appunto al Costa Morena dove c'è il piazzale appena rifatto per attrarre insomma grandi navi. Tu hai fatto questa somma. Questa è l'idea. No, io ti chiedo. Mi dici, alla luce di questo, qual è l'idea di futuro del porto di Brindisi in rapporto a... cioè che idea ti sei fatto? Allora, io voglio fare una cosa. Io invece mi sono preso la briga di andare a leggere diciamo quello che era il documento introduttivo alle opere di banchinamento di Santa Polinare. Dire che era mortificante, ma proprio mortificante, che veramente ti fa venire ma dove stanno le persone culture, dove è la visione, qual è la cultura? Perché andare in tre righe, ma non tre righe, erano proprio di numero tre righe, che il porto avrà dei futuri sviluppi in ambito turistico, di rorò, di cose, ma senza andare un attimino nel dettaglio. La pagina successiva era già il progetto. Quindi... Non vi dispiacete, ma se bisogna parlare di cose serie, parliamo in modo tale. Allora, un attimo, queste sono le infrastrutture. Io ho fatto un breve excursus di quello che è previsto. Cosa manca quindi assieme alla previsione piuttosto comunque precisa delle infrastrutture? Cosa manca? Allora, per collocazione geopolitica, pensando allo scenario che dicevo prima, e quindi il Mediterraneo, il futuro del Mediterraneo, il canale di Suez, la via della seta, diciamo, che ancora non si è pronunciata per quella che è veramente, impongono un'analisi in cui tutti questi fattori vengono messi sul piatto e in base a questo si decide. Io credo che se l'idea di fondo è la logistica, per i diciamo, una cosa importantissima, l'integrazione del, dei vettori di trasporto. E ce ne sono le banchine, no, c'è la banchina di Costa Morena adesso attrezzata col binario. La possibilità di essere collegato con la ferrovia e con le aree che consentono il trasferimento strada e ferrovia e porto, quindi acqua, mare e terra. Allora, il problema è che nei momenti in cui io parto comincio a dire che, allora, il problema principale è queste banchine, ma io le devo fare in rapporto a quello che l'idea di futuro che io voglio del porto di Brindisi, che deve essere visto da un punto di vista della sostenibilità economica, sociale e ambientale. È un porto che una volta che parte si deve sostenere, non deve essere sempre assistito per poter fare questo. La logistica impone quello che dicevo prima e la grande chance di Brindisi è quella di questa grande retroportualità, con suoli inquinati che impongono la bonifica, per cui l'area industriale di Brindisi è fregata, non ci vengono a Brindisi, perché se io vengo a Brindisi, a differenza di altre realtà come Mesagne, tanto per essere... Servono i soldi per le caratterizzazioni. Perché ci viene più? Allora comincia... Al limite facciamo dei parchi fotovoltaici, almeno il Comune investe sul lago e guadagna pure vendendo, perché pensando a quanto costa il denaro, avendo le aree disponibili, perché devo regalare questi suoli agli imprenditori privati? Ve lo faccio io. Hanno detto, no, noi abbiamo 30 ettari di siti, diciamo, inquinate rispetto... E perché il Comune di Brindisi non deve produrre con i pannelli fotovoltaici? Lo fa il Comune. Le banche ti danno i soldi a tasso zero. In fase di predissesto credo che non si possano... No, 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 se parli così allora chiudiamo la barracca e no, no. No, nel senso che non ha gioco. E' a costo zero, perché tu fai l'investimento. C'è l'incentivazione del 50% che ti dà lo Stato. La banca ti anticipi i soldi, poi tu produci energia e te la vendi. E' ripagato. Il signor Sato Susano è stata comprata con questo modello qua, dove, diciamo, un'azienda, se mi sbaglio, giapponese o cinese, ha fatto esattamente questo modello applicandolo sulle terrazze delle persone. Per cui, diciamo, quel modello è assolutamente funzionante. Lascio chiudere te, Daniele. Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, diciamo, io prendo lezioni, oggi una piacevolissima lezione da parte dell'architetto Bruno, che porto a casa volentieri. Io la cosa che mi posso augurare, con una metafora vorrei raccettare, spesso quando vado alle masserie, incontro le masserie, quelli che cos'erano se non dei piccoli nuclei, diciamo, di artigianato e di lavoro, dove la grande capacità dell'uomo è stata quella di adattare l'architettura a seconda dei secoli, in funzione delle sue attività, cercando sempre una cosa sostenibile, pensando mai di essere arrivato. Tanto è vero che, o ancora le troviamo, quel mattone fuori che sporge un pochettino, no, rispetto al muro di delimitazione, è sempre perché da lì si poteva costruire qualche altra cosa. Purtroppo noi, invece, la vostra generazione, la nostra generazione di architetti, pensa sempre, progettisti, ingegneri e quant'altro, pensa sempre di poter raggiungere con una sola azione il meglio che si possa raggiungere. E allora il petrolchimico, l'Enel, l'ILVA, sono tutti, invece, dei modelli che, nell'arco dei loro 80 anni, comparati ai secoli che portano dietro le masterie, hanno fallito pienamente. Ora, quindi, ma produco come spunto, forse dobbiamo un attimino ridimensionare le nostre aspettative, ricoprirci veramente di umiltà e cercare di fare quelli piccoli passi in funzione delle cose che effettivamente abbiamo bisogno, per cui la logistica, la logistica oggi lo condivido. Quando il padrone di noi, Griffiti, parlava abbiamo bisogno di infrastrutture. Io ero d'accordo, dico, ma per un attimo, neanche per un attimo ho pensato alle banchine come infrastrutture. Penso alle infrastrutture in termini di tecnologia, di ferrovie, di combinazioni. È un po' come parlare della mobilità sostenibile e dire tu devi andare in bicicletta. Un operatore c'è, grazie al cielo, insomma, che sta sfruttando la ferrovia in banchina a Costa Morena. Speriamo che possa incrementarsi quel... Lo ricordiamo con il collegamento a tutt'urano. ...al documento programmatico e al piano che si stava facendo. Dopo varie fatiche, tra l'altro. Va bene. No, no, era il concluso. E allora, scusate per la lunghezza, non ho contezza di quanti minuti abbiamo sporato, scusate, però è stata una piacevole chiacchierata e quindi ringrazio l'architetto Tonino Bruno per aver raccolto l'invito, ringrazio le pomes che adesso non si potrà lamentare di non far sentire la voce Sambadella. Ma io non la definirei assolutamente minoranza anche perché quello che hai detto tu è condiviso da gran parte della città, quindi voglio dire... ...la rete culturale per tanti anni, per cui mi auguro di poter farla ancora, aprire dei ragionamenti e poi insomma tutta la comunità deve partecipare. Il dibattito fa sempre bene, purché rimanga ovviamente democratico e non sia inquinato da quello che succede sui social, diciamo. E allora grazie e al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie. Grazie.